Ciao ragazzi, madonna si parte subito così? Ciao ragazzi, questa è la seconda parte di quello che abbiamo fatto nello scorso video Comunque, mi hanno già chingato subito Che lo dico io, com'è possibile? Intanto questo qui sta facendo una mezza specie di camper Vabbè, così ve lo concluderò presto Ma presto? Dico il presto che non avete idea Madonna che ciocchinata che mi è arrivata, me l'ho schivata Neanche James Bond Vabbè vado, vado che è meglio Dove c'è gente vuol dire che c'è kill E dove c'è kill vuol dire che c'è fight Eh, infatti Che vi dicevo? Troll Ipertrolling Madonna mia Oh no, c'era uno che prova a cecchinarmi dal inizio partita Che la prima volta ci è riuscito La seconda e la terza volta no Se tu passi Non sapevo che mi distruggeva la sua torre No Adesso ragazzi Non so dove buildare A proposito So buildare male Quindi ragazzi E siamo dei bambini, sì Siamo dei bambini Eh, io ne ho 4 di kill Io ne ho 8 No, con tutti gli airdrop che scendono sempre in Deep and Stay Con tutte le stranavine che scendono Ma tu c'è il batterampino, sei avanti, mi hai lasciato Madonna Madonna, non sono mai accorto questo qui che è ieri dietro 2000 Troll face quest Troll face quest Madonna Hai visto come? Ma... È il karma questo Ma c'è il karma Ma questo è il karma Ma c'è il karma Ma c'è il karma Ma c'è il karma Ma c'è il karma Aspetta attacco il controller Attacco il controller Alla presa Perché Aiuto Neanche un attimo Io ho una revolver bellissima Che non la uso mai Madonna che Madonna che C'ho paura Ok No, volevo fare l'ultima kill Vabbè ragazzi Abbiamo vinto la partita Tra la la Tra la la Abbiamo vinto la partita Ok E ora abbiamo abbandonato la partita Era messo male Ma molto male E ragazzi Anche se questo video Anche se questo video È durato Ma di quel poco che non avete idea Io basta Devo Io devo mangiare Ho una fame assurda Devo mangiare ragazzi Quindi Oh che bel ballo Marionetta Quindi ragazzi Devo uscire Ci vediamo nel prossimo video Come sempre A presto Ciao